Provedimenti alla viabilità a Montesano sulla Marcellana per i prossimi giorni. Il sindaco Giuseppe Rinaldi con un post sulla propria pagina Facebook annuncia la chiusura al transito della Galleria Cessuta-La Manca a confine tra Tardiano di Montesano sulla Marcellana e Moliterno. Il sindaco nell'avviso pubblico porta a conoscenza dei cittadini che il provvedimento, come da ordinanza dell'ente provincia di Salerno pervenuto al Comune, sarà attivo dal 22 luglio al 2 agosto prossimi. nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 18. La chiusura al transito della Galleria Cessuta-La Manca si rende necessaria per l'esecuzione di lavori che interesseranno la pavimentazione del tratto e la posizione di segnaletica verticale e orizzontale. Il sindaco Rinaldi precise inoltre che l'ente provincia ha anche individuato il percorso alternativo che risulta essere, per entrambe le direzioni, il tratto strada statale 19, strada statale 598, strada provinciale 103, con estensione di circa 65 km e un tempo di percorrenza di 50 minuti circa. Ricordo, prosegue il primo cittadino Rinaldi nell'avviso, che è presente viabilità ulteriore da percorrere per chi ritiene con particolare prudenza per raggiungere Moliterno, ossia la cosiddetta Via Vecchia per Moliterno o Via Faggeto, il cui tratto di competenza di Montesano, da pochissime settimane è stato ceduto dalla regione Campania al comune di Montesano sulla Marcellana. Cessione accettata da questo ente, consci di quanto conti avere strade alternative di propria competenza per ogni evenienza, i fatti odierni ci hanno dato ragione, così conclude il sindaco.